Diamo il benvenuto qua a Catanzaro al coach Massimiliano Ariviano. Coach, innanzitutto per rompere il ghiaccio in questa nostra prima intervista ti chiedo cosa ti ha spinto ad accettare questo nuovo progetto della Basket Academy Catanzaro e che tipo di ambiente hai trovato in questo tuo primo mese poco più di allenamento? Ma cosa mi ha spinto? Innanzitutto la bontà del progetto è fare una C-Gold con l'ostatura della squadra puntando maggiormente sui ragazzi che fanno parte delle giovanili di Catanzaro e tra l'altro ragazzi che conoscevo e delle affrontate mi stanno anche con l'anno 19 che allenavo io a Render quindi un bel progetto stimolante per me è un'opportunità di mettermi alla prova a questi ragazzi e quindi ho accettato per questo motivo e lavorare con i giovani mi stimola ancora di più c'è tanto da fare però è stato interessante accettare anche questo mondo Ovviamente non ci soffermiamo su quella che è la tua carriera sei uno dei volti noti all'interno del panorama calabrese come hai detto tu anche e soprattutto per quella che è la tua attività a livello giovanile quest'anno ti troverai a gestire un campionato senior importante come la C-Gold un girono impegnativo quello calabro siciliano con un gruppo fatto quasi esclusivamente da Under a parte chiaramente Fall ti chiedo su cosa ti stai soffermando maggiormente per arrivare piano piano nelle migliori condizioni possibili all'inizio del campionato ma diciamo che in questa prima parte siamo il lavoro maggiore fatto diciamo sulla lavorazione fisica grazie allo staff che la società ha messo in piedi sta continuando a costruire dentro e fuori dal campo grazie al lavoro di Giorgio Scarfone insomma i ragazzi stanno lavorando più da tutto in vista appunto come dicevo della lavorazione fisica e su di loro poi se logicamente stiamo lavorando molto a livello di personale diciamo di miglioramento individuale stiamo iniziando a vedere un po' alcune cose in attacco qualcosa si eseguisse già nel primo test e niente di loro si sta svolgendo integrando sia il lavoro di Giorgio con quello tecnico fatto da Danilo come hai menzionato già tu la squadra che è già scesa in campo per la prima amichevole tra virgolette della stagione in questa inedita Coppa Calabria con la squadra di Catanzaro che ha affrontato e ha vinto fuori casa contro la DR di Reggio Calabria ti chiedo cosa ti è piaciuto di più dei tuoi ragazzi cosa magari un pochettino di meno e cosa ti aspetti per la prossima sfida di domenica in casa contro la BIS ma il primo test contro la DR al di là del risultato insomma come al solito in ogni partita come sarà durante la stagione ci sono state alcune cose che abbiamo fatto abbastanza bene era chiaro che dopo molti giorni di allenamento diciamo era preferibile una cosa di genere insomma non avere un flusso di gioco continuo almeno vivere affrettato però e tante cose che non sono andate bene però la cosa più importante è stato che i ragazzi comunque da un punto di vista fisico non hanno avuto cani, c'è chi ha giocato anche diversi minuti di limon quindi diciamo è stato un buon test dal punto di vista fisico e poi diciamo la cosa che è una delle cose che mi piaciute più quando siamo andati un po' in difficoltà sia tecniche sia diciamo in un momento in cui la partita si sono alzati un po' toni anche diciamo fisici la squadra dopo qualche momento di appannamento poi sempre si è voluto reagire i ragazzi hanno dovuto dare sempre la risposta una risposta da questo punto di vista e speriamo che si possa continuare in questa direzione quindi anche in vista della prossima partita casalinga diciamo che l'obiettivo è questo mantenere quanto fatto di buono nel corso della prima uscita e magari piano piano aggiustare quelli che sono i piccoli meccanismi che chiaramente all'inizio stagione si devono sistemare sì sì, come hai detto bene diciamo che queste prime partite servono soprattutto anche qui per testare il loro stato di forma innanzitutto è chiaro sì, queste settimane, questi giorni lavoreremo per migliorare alcune cose ma l'importante insomma anche nella seconda partita che faremo cercheremo di cercare di nuove risposte di dare spazio a quanti più ragazzi possibili che si stanno allenando e si stanno impegnando dal primo giorno per un altro testo per loro bene, lo rendiamo così perché comunque a noi interessa anche, a me e alla società interessa anche il miglioramento individuale da tutti i punti di vista di questi ragazzi quindi nella mia partita abbiamo giocato anche un 2005 o un 2006 in campo ma non si è potuto tenere in campo abbastanza bene quindi in questa ogni partita andremo a vedere e questo cercherò di migliorare sempre ok, grazie mille coach in bocca al lube e benvenuto qua a Catanzaro grazie mille, grazie grazie a tutti